Io e il collega Quaglieri, poi si sono associati anche gli altri colleghi, alcuni colleghi del Partito Democratico, abbiamo già dal mese di giugno scorso incominciato a relazionarci con alcuni esperti del settore, con il presidente regionale dell'associazione per capire come analizzare e che testo portare in commissione. Abbiamo presentato questa mozione che è stata votata all'unanimità, domani entreremo meglio nei dettagli in una conferenza stampa che terremo a Pescara alle ore 11.30 in regione ed è una giornata oggi importante perché in questi mesi abbiamo preso contezza dell'elevato pubblico, dell'elevata utenza che ahimè oggi deve combattere quotidianamente con questa patologia, una patologia che viene definita anche per ricchi perché richiede delle cure molto costose e quindi il fatto di aver oggi portato alla conoscenza della commissione consigliare, la quinta commissione, questo tema e di averla approvata all'unanimità, penso che abbiamo fatto oggi fare un passo sociale importante alla regione Abruzzo anche con il placet dell'assessore Nicoletta Verì.